Ciao, sono Andrea Libero Gioia, sono l'ideatore di The Walk of Change. Tra due giorni arriveremo a Roma, la capitale, 146 km di cammino, partendo dall'Aquila. Arriveremo l'8 di settembre, una data storica per il nostro paese, ricordata come l'inizio ufficiale della resistenza italiana contro le dittature. Arriveremo a Roma, Piazza Bocca della Verità, alle ore 15. Il giorno dopo ci sposteremo a Piazzare di Roma, per la giornata della controinformazione italiana. Il 10 settembre saremo a Piazza della Repubblica per un corteo che partirà insieme a due altre associazioni, Cliva e RIP, riprendiamoci il pianeta e arriveremo fino in Piazza Venezia. Il giorno 11 ancora continueremo questo percorso del cambiamento e sarà la giornata di chiusura di tutto l'evento. Noi cerchiamo di difendere quel qualcosa che ci appartiene come esseri umani. Parleremo di libertà, parleremo di Costituzione, parleremo di libera informazione, parleremo di libera scelta e parleremo di vaccini. Ci occuperemo dei dubbi delle famiglie italiane, preoccupate per il futuro e la salute dei propri figli, messi a rischio da una legge ingiusta e soprattutto pericolosa. A testimoniare queste verità ci saranno con noi il dottore Andrew Wakefield, il dottor Franco Trinca, il dottor Paolo Rossaro, l'avvocato Marcello Stanca, senatore Bartolomeo Pepe, dottor Massimo Pietrangeli, l'avvocato Leo Maria Galati, il giornalista Erri Tallarita, dottor Franco Ranieri Santi e tantissimi altri ancora. È necessario fare informazione, fare sentire la nostra presenza e farci sentire con il fiato sul collo delle istituzioni. Quello che dobbiamo fare è semplicemente partecipare. The Work of Change, il cambiamento è cominciato.